Sì, ma l'ultimo, Daniel, l'ultimo, ok? Pronto? Ciao Alessandro, come stai? Ciao Daniel, tutto ok, tutto ok, grazie. E volevo chiederti, stai cercando un furgone nuovo in pronta consegna? Se passo da te o terzo, hai qualcosa da farmi vedere? Certamente. Quando vuoi passare? Oggi pomeriggio, hai tempo? Fammi dare un'occhiata all'agenda. Va bene. Guarda, se vuoi, oggi pomeriggio alle 3 ti aspetto. Perfetto, allora ci vediamo dopo. A dopo, ciao Daniel. Ciao, grazie. Daniel, questo è l'Express, questo è il mezzo per te. Vediamo, vediamo. 1,91 per 1,10. Vai tranquillo. Non ti convince? Forse è qualcosa di più grande. Chiaro che è qualcosa di più grande, ma... Daniel, Thomstar, Nissan. Bello. Puoi avere sia benzina che elettrico. 3,3 metri cubi di carico, questo è il tuo mezzo. Ma... Bello è bello. Non mi sembra tanto più grande. Lo vuoi ancora più grande? Sì, più grande. Più grande ancora? Sì, Alessandro, ancora più grande. Più grande allora. Daniel, dai, sali. Master. Bellissimo furgone. Che grande. Guarda, io sono alto 1,90. Guarda che spazio. Sì, ho capito, grande. Ma questo è troppo grande, Alessandro. Sì, ho capito, ma mi hai chiesto, tu grande. Sì, ma questo è troppo grande. Sì, ma cosa devi fare con questo furgone, Daniel? Dai, fammi vedere l'ultimo un po' più piccolo, per favore. Un altro? Sì, l'ultimo, l'ultimo. Sì, ma l'ultimo, Daniel, l'ultimo, promesso, l'ultimo. Daniel, traffic, questa è la misura intermedia tra i piccolini che ti ho fatto vedere all'inizio e il master. Ti va bene? Allora, direi che come dimensioni è quello perfetto. Oh, là. Però... Come però? Io vorrei anche la copertura. Però, Daniel... Ma vorrei anche la copertura. Ascoltami, sono le 6 di sera, c'è freddo. È tutto il pomeriggio che sei qua a chiedermi di questi veicoli. Tanto non si chiama copertura, si chiama pianale. Sì, è il pianale. Allora, chiamalo correttamente. Pianale, perché così non mi si rovina sotto. Poi il pianale di legno mi sembra al minimo. Ok, ascoltami. Noi, come Borsoi, nei veicoli commerciali, regaliamo il pianale a chi acquista un veicolo commerciale. Questa mi sembra un'offerta ragionevole. Sì, basta che sia finita, però. Sì, a parte... No, a parte cosa? A parte che non ti ho detto che ero venuto per un amico. Ma che amico? Non è per te il furgone. No, per un amico. Quindi si dovrà pensare. Dai, Ale, ti faccio sapere. Ti facciamo sapere. Dai, ciao. Daniel. Grazie, ciao. Ciao.